Abbiamo parlato del valore dell'acqua. In questi giorni l'acqua, oltre ad essere un valore, è diventata anche un grande problema per le regioni che hanno avuto allagamenti, hanno avuto sinistri, hanno avuto dissesti idrogeologici. Per cui bisogna ragionare, abbiamo ragionato, su come fare prevenzione. Come facciamo prevenzione per evitare che ci siano dissesti al di fuori di quello che è il programmabile, di quello che può essere un'iniziativa necessaria a livello locale per contenere i sistemi. In queste logiche si è parlato di alluvioni, di siccità e sono stati individuati dei temi di prevenzione che possono interessare e che saranno necessari per diminuire le attività per i cittadini e il costo per tutta la collettività.